Il problema è responsabilità sociale, ha fatto l'amberto dicesima edizione per una donna che ha saputo portare l'arte attraverso il web, un'idea geniale che ha portato a democratizzare l'arte. Qual è la responsabilità sociale dell'arte e di chi fa questo genere di iniziative? Il motivo per cui ho pensato a questo progetto e poi l'ho realizzato è, come diceva lei, la democratizzazione dell'accesso all'arte, ma se andiamo un po' più in profondità, conoscere culture diverse, tradizioni diverse, fondamentalmente che cosa fa? Apri la nostra mente e ci avvicina all'altro da noi, ci fa conoscere l'altro da noi. E in un momento come questo di polarizzazione del pensiero, di persone che hanno un pensiero unico e sono molto poco aperte appunto all'altro da sé, penso che un progetto come Google Arts and Culture attraverso il filtro della cultura però ti permetta di capire le prospettive, le origini, i punti di vista di altri e quindi di ampliare il proprio pensiero e fondamentalmente creare punti.